La funzione di un ponte, di ogni ponte, è collegare, anzi unire territori e comunità. Ed è proprio a questa funzione che si ispira la realizzazione del ponte Celestino V, le cui caratteristiche sono state illustrate oggi a Letto Manoppello in un Consiglio Comunale straordinario congiunto, presenti sindaci e consiglieri delle due cittadine coinvolte, la stessa Letto Manoppello e Rocca Morice. Già finanziato con fondi ministeriali, già appaltato alle ditte che lo realizzeranno, il ponte dovrebbe avere cantierizzazione completata entro la fine dell'estate 2024. I lavori dovranno terminare entro tre anni, ma si spera possano durare anche meno. Abbiamo deciso di puntare su questo ponte proprio per avvicinare principalmente le due comunità di Rocca Morice e Letto Manoppello, ma poi ha anche un altro valore fondamentale che è poi il collegamento tra le due comunità rispetto al fatto che ci sono tantissime attrazioni turistiche che si possono raggiungere ancora più velocemente. Immaginiamo Caramanico, immaginiamo il Volto Santo, un'unica direttrice, un unico asse per poter valorizzare ancora di più le nostre bellezze. Ci sono poi tutti gli eremi, insomma questo è un territorio che offre tanto, c'è anche l'aspetto minerario, quindi sicuramente dal punto di vista turistico sarà importante. Dal punto di vista dell'impatto naturalistico come vi siete organizzati? L'impatto naturalistico lo stiamo curando, ci sono gli enti che adesso andranno a dare i loro pareri. Certo è che il ponte acquisirà anche una bellezza di carattere turistico non impattante, anche dal punto di vista strutturale. Il lavoro preparatorio, la progettazione, anche il rango vorrei dire delle personalità coinvolte è garanzia di rispetto della compatibilità ambientale e anche paesaggistica. Il ponte di congiunzione tra i territori è una sfida che viene indietro nel tempo e sarà utilissima per connettere zone diverse ma importanti della Maiela dal punto di vista turistico e dell'attrattività. È un ponte desiderato dai nostri avi almeno da 100 anni, ci siamo messi con dedizione per cercare le risorse, attivare la procedura, impiantare la progettazione e devo ringraziare la provincia di Pescara del presidente De Martinis e dell'ingegnere capo, ingegnere Scorrano, che hanno assunto il dossier, lo hanno portato avanti sviluppandolo solo con la loro straordinaria competenza. E poi il ministero delle infrastrutture che raccogliendo un emendamento lo ha finanziato e ha reso possibile che diventasse una procedura affidata, un contratto di immediata sottoscrizione. 7 milioni di euro per collegare in nome di Celestino V il giacimento termale che deve ripartire di Caramanico al Volto Santo di Manoppello alle terre alte di Passo Lanciano. La prima infrastruttura di questa città immaginifica che si chiama Città della Maiella che unirà tutti i paesi del bacino minerario della Maiella. Le democrazie territoriali resteranno ma si faranno procedure coordinate, composte, in maniera tale che gli obiettivi facenti parte dei problemi comuni verranno raggiunti convergentemente da tutti che procederanno come se fosse una stessa amministrazione. Questo ponte è il primo grande risultato. Ci prendiamo tre anni per inaugurarlo il ponte e venti anni per far nascere la città della Maiella.